L'Ulss Dolomiti informa che da lunedì 26 ottobre sarà potenziata l'offerta tamponi nei quattro covid point attivi sul territorio, il drive-in di Belluno sarà attivo H24 7 giorni su 7, dalle 7 alle 19 a Sagrogna e dalle 19 alle 7 al San Martino. Il covid point di Feltre, zona peschiera, sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, il covid point a Tai di Cadore dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18 e quello di Agordo, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. Inoltre dal prossimo lunedì potranno accedere ai quattro drive-in senza appuntamento anche le persone a cui è stato prescritto un tampone molecolare o un tampone antigenico rapido da parte del medico di famiglia. In Veneto il numero dei contagi sta aumentando, ha commentato intanto il presidente regionale Luca Zaia, precisando però che è il risultato del fatto che facciamo molti più tamponi. E da Marghera l'annuncio che entro lunedì verrà emanata una nuova ordinanza con restrizioni per evitare gli assembramenti. Restrizioni che non saranno preclusive delle attività, però comunque ci serviranno a creare meno possibilità di contatto possibile tra i cittadini. Se consideriamo che gran parte dei positivi, come vi ho sempre detto, non sono sintomatici, sul fronte della cura ci siamo. Il vero tema è il collasso della sanità. Se riempiamo gli ospedali di pazienti Covid non riusciamo più a curare gli altri pazienti. E per quanto riguarda la campagna vaccinale, l'Ulse Dolomiti segnala che è stata creata una casella di posta elettronica per informazioni e prenotazioni di vaccinazioni. Per chi voglia saperne di più su anti-TBE e anti-influenzale sarà a disposizione l'indirizzo vaccinazioni.bl.auls1.veneto.it. Inoltre da oggi il numero dedicato 514333 sarà sospeso per potenziare l'unità di crisi Covid.